Nicolò Marino, fantasista dell'Ururi, il punteggio sicuramente è schiacciante contro questa Isernia, non sono queste le partite che l'Ururi deve vincere a tutti i costi, ma si è vista una squadra viva che a corso si è impegnata e ha sfruttato l'unico errore dell'Isernia, segno è che con la testa i ragazzi ci sono. Sì, assolutamente, buonasera a tutti. Peccato perché assolutamente l'Isernia in questo momento ha un livello superiore sotto tutti i parametri, però dispiace perché comunque in primo tempo eravamo rimasti lì vicini a loro, l'abbiamo tenuto fisicamente, tecnicamente e tatticamente, siamo stati, non dico alla pari, ma perlomeno all'altezza. Però purtroppo poi siamo, come sempre, abbiamo questo crollo dovuto a una stanchezza un pochino eccessiva, perché purtroppo siamo basti un po' pochini, ma questo non deve farci abbattere, deve pensare alla prossima partita, quella dopo, quella dopo ancora raggiunge questa salvezza, perché come ho detto comunque ci sono dei miglioramenti, si vede una squadra diversa, propositiva, quindi continuiamo su questa strada. In particolare l'aspetto che più colpisce è che è una squadra coraggiosa, costruisce da dietro e poi quando riesce ad aprire il campo in ampiezza diventa pericolosa. Assolutamente, sono queste nostre ideologie, noi non ci facciamo spaventare dalla posizione di classifica o dall'avversario, noi abbiamo una nostra ideologia e siamo creati per giocare in questa maniera, quindi al di là di avversario o posizione di classifica, noi rendiamo al meglio in questa maniera e appunto per questo continueremo su questa via. I miglioramenti, come vi ho detto, rispetto alle ultime partite sono evidenti. Sono convinto che sia stata giusta, la percorremo fino alla fine e cercheremo di raggiungere questa tanta aspetta della salvezza.